Sensibilizzare i giovani sul tema del bullismo, questo l'obiettivo dell'iniziativa Il Bullo non va a scuola, organizzata dal Forum dei Giovani di Monte Corvino Pugliano e presentata ufficialmente lo scorso 26 gennaio. Una campagna costituita da sette tappe rivolta agli alunni dell'Istituto Comprensivo, che si avvale della partecipazione di specialisti del settore, come spiega il consigliere del forum e referente del progetto Fabio Buonomo. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Monte Corvino Pugliano e dall'ente Bosco San Benedetto e devo dire che è stata accolta con molto entusiasmo da parte della dirigente scolastica, la dottoressa Maria Rosaria Mirra e dall'intero corpo docenti. L'iniziativa è stata denominata Il Bullo non va a scuola e prevede una serie di incontri. La presentazione è stata appunto il 26 gennaio. Ci siamo avvarsi della disponibilità di vari esperti del settore. Avremo degli incontri con delle psicologhe, affronteremo il tema del cyberbullismo, affronteremo il tema della disabilità e bullismo con l'Anfas Giovani e infine diamo una sfaccettatura un po' più divertente con un esperto teatrale. La chiusura è prevista per il 27 aprile. L'intento di questo consiglio del forum dei giovani è quello di affrontare dei temi di importanza elevata come il bullismo e di sensibilizzare e informare i giovani del territorio.